Buongiorno a Caffè Bleu su RBI Radio TV, il bistro radiofonico e televisivo che vi tiene a compagnia con tanti spunti e stimoli per i vostri 5 sensi più uno, quello che le abbraccia a tutti, il senso della meraviglia. Sicuramente tanta meraviglia sa regalare a tanti spettatori e spettatrici il cinema e il cinema in particolare, quello che vi raccontiamo in questa puntata di Caffè Bleu, riesce ad unire diversi aspetti, la montagna, il lavoro con la disabilità, insomma il lavoro importante di realtà come la diaconia valdese e come la montagna che aiuta, ne parleremo con i nostri ospiti presenti qui con noi in collegamento e in diretta per presentare il prossimo evento della rassegna montagna DOC, la montagna con le sue storie di resilienza, di resistenza, appuntamento sabato prossimo alle 18.30 alla Cinema delle Valli per il film Sul Sentiero Blu, abbiamo con noi qui presente nel nostro studio Loretta Costantino della diaconia valdese, in particolare del progetto BOOM, buongiorno. Buongiorno. E in collegamento in diretta in video Marco Battain della montagna che aiuta, buongiorno Marco. Buongiorno. Ben arrivati, ben arrivata e ben arrivati nel nostro bistrò di Carfabla su RBA, appuntamento quindi per il 3 di dicembre alle 18.30, una giornata importante, diciamo questo appuntamento non è stato fissato a casa evidentemente per questa proiezione del film di Gabriele Vacis su Sentiero Blu che tra poco racconteremo. 3 dicembre, l'impegno della diaconia come centro BOOM in questa giornata che ricorda appunto il lavoro e l'impegno per la disabilità. Esatto, sì. Il nostro centro, il centro di autismo BOOM, è un centro della diaconia valdese Valdi che è nato ormai dieci anni fa nel 2013 ed è un servizio che si occupa di offrire attività, per lo più il cuore del nostro servizio si occupa di offrire attività e interventi di tipo riabilitativo, psicoeducativo per bambini e ragazzi autistici nella fascia d'età 6-12 anni. Un impegno quindi che si unisce evidentemente per questo progetto Marco al cinema su Sentiero Blu, è un film appunto di Gabriele Vacis che abbiamo conosciuto e conosciamo anche come autore e regista teatrale. Ecco, che cosa racconta soprattutto, che cosa vuole offrire la vostra realtà, quella che ha un titolo meraviglioso, la montagna che aiuta, Marco? Bene, la montagna che aiuta è un gruppo informale di soci dei CAI, del club alpino italiano sezione di Torino che nacque anch'esso un po' più di una decina di anni fa e che si propone di accompagnare in montagna le persone con vari tipi di disabilità e di difficoltà. Ovviamente anche nei confronti delle persone che vedremo poi nel film, tant'è che una delle persone ovviamente non mi dico chi che partecipa a questo film, che ha partecipato a questa attività, ha camminato anche con noi. Bello. Il film, il film in particolare su Sentiero Blu, narra, Marco, un'esperienza in particolare che hanno vissuto appunto dei ragazzi e delle ragazze. È un documentario, quindi una storia vera, una storia che ha permesso a questi ragazzi e a queste ragazze di scoprire come la montagna sappia davvero aiutare, è vero? Sì, la montagna viene usata come contesto particolare insieme con il gruppo per cercare di ottenere un cambiamento, una trasformazione di coloro che la frequentano e questo avviene sia per le persone con vari tipi di difficoltà ma anche per chi accompagna. La montagna è spesso stata considerata nel passato come fonte di fatica, di preoccupazione, di timore, eccetera, eccetera, però in realtà quando viene affrontata insieme, in gruppo, in compagnia, con le competenze dovute a chi accompagna, le competenze acquisite, diventa un luogo amichevole dove i cinque sensi possono sicuramente prendere atto di un contatto con la natura particolarmente valido, significativo e confortante. Doretta, il contatto con la natura, mi collego a quello che ha detto il nostro ospite Marco, un momento importante direi, l'uscire dalla propria casa, dal proprio isolamento e se vogliamo passami il termine dal proprio mondo, dal proprio mondo in cui le persone con l'autismo vivono insieme ovviamente alle proprie famiglie il più delle volte. Ecco, il contatto con la natura che ha anche ricordato Marco, perché quando parliamo di montagna non parliamo solo di alpinismo, di scalate evidentemente, ma davvero un modo probabilmente di rientrare in armonia e non da soli, ma in gruppo. Esatto, sì, come centro da un po' di anni cerchiamo di essere aperti al territorio e quindi di provare a portare fuori l'autismo nel territorio che ci circonda e offrire alle nostre famiglie, ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, la possibilità di vivere delle esperienze nel territorio che abbiamo intorno, quindi non soltanto interventi riabilitativi, educativi in un contesto terapeutico, ma di far sì che le strategie, le metodologie che vengono applicate dalle nostre operatrici, dai nostri operatori in un contesto più di apprendimento possano poi essere generalizzate e portate in un contesto naturale, come può essere nello specifico di questo progetto che abbiamo attivato che si chiama Montagnabile, che abbiamo attivato con una SD del nostro territorio, la SD Scuriosando e ci permette di portare i nostri ragazzi e le nostre ragazze a fare esperienza a contatto con la natura attraverso passeggiate, attraverso soggiorni, attraverso weekend, proprio immersi in un contesto di gruppo con le guide, con gli accompagnatori e vivere esperienza a contatto con la natura. Ecco, queste guide, questi accompagnatori, queste accompagnatrici sicuramente avranno una formazione evidentemente tale da poter supportare questi ragazzi e queste ragazze e queste persone appunto con autismo, in particolare Loretta, ci può toccare con mano la differenza tra questo approccio, perché spesso magari se non si conosce a fondo il tipo di attività siamo portati più che altro a mantenere i nostri ragazzi e le nostre ragazze con autismo in un contesto più protetto, che magari effettivamente non è protetto. C'è una differenza che possiamo toccare con mano evidentemente con attività di questo tipo? Certo, il progetto che abbiamo iniziato in realtà da poco è un progetto finanziato dalla Compagnia San Paolo, prevede proprio a previsto, perché la prima fase del progetto è terminata, un corso di formazione per gli accompagnatori, per le guide naturalistiche abbiamo coinvolto 25 guide del territorio che hanno fatto tutta una serie di incontri di formazione condotte dalle nostre operatrici proprio per andare ad approfondire le caratteristiche dell'autismo e per permettere loro di imparare a prendere delle strategie per preparare le escursioni, i soggiorni in modo adatto alle caratteristiche peculiari del disturbo dello spettro autistico. Marco, la montagna che aiuta, che fa parte appunto delle attività insomma di questo mondo legato al CAI, l'amore per la montagna, per l'alpinismo in particolare Marco, avete in mente, avete in programma diverse attività? Dove possiamo trovare tutti i vostri progetti? Ce n'è una in particolare di cui vuoi parlarci oltre ovviamente all'esperienza del film sul Sentiero Blu? Le nostre attività sono attività sociali e sono a calendario nella sezione ovviamente la loro frequentazione però avviene in un gruppo non numeroso perché altrimenti poi i contatti interpersonali si diluiscono troppo per cui un gruppo ottimale è di una dozzina, quindicina di persone. La montagna che aiuta è un gruppo di soci del CAI accompagnatori quindi che non si prefiggono direttamente gli scopi terapeutici diciamo o riabilitativi ma chiaramente mettono a disposizione tutte le competenze in materia di frequentazione della montagna e ovviamente di conoscenza dell'ambiente naturale. Peraltro come Club Alpino esistono degli specifici corsi di preparazione, di informazione degli accompagnatori ad affrontare determinati tipi di relazioni a seconda delle persone che noi accompagniamo. Ovviamente non accompagniamo soltanto persone con questo tipo di disturbo ma accompagniamo anche disabili sensoriali, disabili motori, persone con patologie psichiatriche importanti. Nella fattispecie in questo momento stiamo per riavviare con il 2023 due progetti uno che riguarda una comunità terapeutica per le dipendenze e l'altro un gruppo di un centro di urno dell'azienda sanitaria di Torino. Riprenderemo il nostro discorso tra poco con i nostri amici, i nostri ospiti presenti nello studio di RBA per Café Bleu. Restate con noi, una breve pausa e poi torneremo a presentare questo prossimo appuntamento della rassegna Montagna Doc, questa storia di resistenza e di resilienza che ci permette di scoprire, di aprire una nuova via, una nuova via che permette appunto a persone con autismo di poter vivere la meraviglia della montagna. Ne parleremo ancora tra poco qui su RBA. Bentornati e bentornati a Café Bleu su RBA Radio TV, il nostro bistro radiofonico e televisivo che vi accompagna su una nuova via, un sentiero blu che stiamo percorrendo insieme ai nostri ospiti Loretta Costantino appunto del boom, del centro autismo della diaconia valdese e il collegamento Marco Battain della montagna che aiuta come la montagna sappia davvero aprire evidentemente nuovi sentieri, nuove vie anche per quanto riguarda l'autismo e questo tema sarà al centro dell'ultimo appuntamento di Montagna Doc che è organizzato dall'associazione Piemonte Movie sabato prossimo, sabato 3 dicembre tratto giornata internazionale della disabilità alle 18.30 al Cirima delle Valli questo appuntamento che presenterà il documentario di Gabriele Vacis sul sentiero blu che stiamo presentando appunto con i nostri ospiti Loretta, abbiamo parlato appunto del centro, del centro boom, del centro autismo, della diaconia valdese un vero e proprio percorso, vorrei utilizzare questa metafora del sentiero di montagna per la capacità del centro di voler accompagnare questi ragazzi e queste ragazze verso una possibile indipendenza Esatto, sì, il nostro centro offre proprio dei percorsi, è giusto, dei sentieri per le famiglie che prendiamo in carico i nostri bambini arrivano al centro quando compiono i sei anni, prima sono seguiti dal servizio di neuropsichiatria infantile dell'Astato 3 Insieme ai loro genitori cerchiamo di impostare un progetto di intervento che prevede degli interventi proprio nei contesti dove i bambini vivono a casa, a scuola, oltre che nei locali del nostro centro e questi progetti hanno proprio l'obiettivo di migliorare innanzitutto la loro qualità di vita migliorarla attraverso appunto degli interventi educativi nei contesti dove loro trascorrono la maggior parte della giornata e anche proprio di offrire loro una parte di attività nel loro tempo libero per far sì che il loro tempo libero possa essere arricchito di occasioni di inclusione sul territorio o più che di inclusione proprio anche di convivenza delle differenze, delle diversità Ecco hai sottolineato, e volevo anche ribadirlo anch'io, la convivenza delle differenze e la possibilità di essere probabilmente anche consapevoli non solo da parte dei ragazzi e delle ragazze ma anche delle famiglie forse? Esatto, sì oggi sempre di più il termine inclusione è bello ma la comunità, soprattutto la comunità delle persone autistiche sottolinea l'importanza anche proprio del termine convivenza non è un territorio che deve includere ma è un territorio che deve essere aperto alla possibilità di far stare insieme persone che hanno caratteristiche diverse l'autismo è proprio un modo diverso di stare al mondo, un modo diverso di funzionare uno sviluppo che non è uno sviluppo neurotipico ma che è una neurodiversità ma che può essere accolta dal territorio e la montagna sicuramente è il contesto per eccellenza che può accogliere le differenze Fino a che età voi operate con questi ragazzi al centro boom Loretta? Lavoriamo fino in convenzione con l'ASL e con i servizi sociali fino all'età di 12 anni e poi però cerchiamo di offrire anche progetti dai 12 ai 18 ecco l'importanza e poi finisco questo bombardamento di domande però sono curioso e vado avanti così Loretta l'importanza di questo periodo della vita di questi ragazzi e di queste ragazze ha anche un senso immagino che l'intervento del boom avvenga in quella fascia d'età Esatto nel trattamento di disturbi dello spettro autistico è fondamentale un intervento precoce subito dopo la diagnosi, adesso la diagnosi viene fatta ai 2-3 anni di vita quindi i nostri bambini vengono presi in carico inizialmente dal servizio dell'ASL e poi però passano a noi ed è importante proprio permettere loro di ricevere delle strategie per poter stare meglio al mondo e per poter andare ad intervenire in quelle che sono le caratteristiche più fragili del disturbo dello spettro autistico che sono la comunicazione, il linguaggio e l'interazione sociale Marco una curiosità immagino che nella vostra esperienza come la montagna che aiuta ricordiamo ancora questa realtà del CAI di Torino ecco nella vostra esperienza e nella sua esperienza in particolare Marco c'è qualche episodio, un aneddoto che ha voglia di condividere con noi rispetto a questa esperienza con ragazzi e ragazze autistici? Sì, potrei raccontarvi una cosa successa più o meno una decina di anni fa quando abbiamo fatto un trekking insieme anche con animali, con asini e un gruppo di persone in questo caso adulte, la persona di cui vi parlo allora avrà avuto un 25 anni più o meno con problematiche relazionali varie ma la persona di cui vi parlo era stato indicato e questo giovane durante il trekking che è durato più giorni e più notti ovviamente come dire incrociava con me lo sguardo spesso io facendo l'accompagnatore in quelle occasioni mi occupavo tra l'altro di montare le tende alla sera di accampamento per gli accompagnatori in realtà le persone accompagnate dormivano in struttura eccetera eccetera e siccome avevo bisogno di qualcuno questo ragazzo in qualche maniera mi stava vicino un po' per la curiosità di capire come si montano le tende però similmente ogni tanto mi passava anche i pezzi all'ultima sera dopo praticamente un come dire alcuni giorni passati fra incroci di sguardi e quasi nessuna parola stavo cincischiando un po' con altri non mi ricordo per che cosa mi è venuto vicino e mi ha detto montiamo le tende è stato come dire un ingresso nel mio mondo bello ed è stato come dire emozionante perché è stato l'apertura di un momento e di un mondo che poi abbiamo continuato nel tempo quando ci siamo visti in altre occasioni quanto è stata importante quella domanda Marco tantissimo rompere il silenzio così meraviglioso dove possiamo trovare tutte le informazioni sulla vostra realtà Marco la montagna che aiuta dove troviamo le informazioni il sito della montagna che aiuta è presso il caltorino basta digitare la montagna che aiuta e ci si trova devo però dirvi che diciamo che questa attività è svolta un po' da molte sezioni del club alpino sono più di 150 le sezioni in Italia che svolgono questo tipo di accompagnamento voi per le persone con disabilità relazionale sociale fisica eccetera eccetera e per le attività fisiche in particolare ci sono abbastanza delle come dire delle belle realtà Loretta invece per avere tutte le indicazioni riguardo appunto il centro BUM dove si trova? ci sono più sedi? come possiamo fare per trovare orientamento insomma in questo vostro servizio? il nostro centro ha sede a Pinerolo in via Bogliette numero 20 la sede principale e da due anni abbiamo aperto anche una sede più piccola nel territorio di Grugliasco presso il parco Leserre di Grugliasco c'è un sito? il sito della Diaconia Valdese, WW Diaconia Valdese abbiamo anche una pagina Facebook BUM Centro Autismo BUM Centro Autismo, la montagna che aiuta sui motori di ricerca, sui social e perché no anche sull'articolo che uscirà su rba.it e con il podcast che accompagnerà questa esperienza che vi abbiamo raccontato un altro dei progetti presentati dalla rassegna montagna doc storie di montagna e di resistenza e di resilienza che abbiamo presentato in questi appuntamenti speciali del nostro bistro appuntamento quindi a sabato 3 di dicembre alle 18.30 al cinema delle valli sarete presenti anche voi? ci sarai anche tu Marco? sì sicuro certo bene allora ci vediamo sabato prossimo grazie per essere stato con noi grazie Marco Battain, la montagna che aiuta nel CAI buona giornata e buon lavoro a presto arrivederci e grazie anche a Loretta Costantino grazie ovviamente anche agli amici e amiche della Diaconia Valdese buon lavoro e alla prossima grazie a voi